Siamo qui a Roma a presentare la 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Cregiato di Acqualagna. Siamo a Roma perché Roma è la capitale e Acqualagna è una delle capitali del tartufo, ormai riconosciuta a livello nazionale e internazionale. La 58esima Fiera che racconta che è un percorso lungo, una tradizione che viene rinnovata anche quest'anno con diverse innovazioni tra cui la gara delle città del tartufo grazie alla partecipazione delle città nazionali del tartufo. Tra queste abbiamo Alba, abbiamo Amandola, abbiamo San Mignato, Acqualagna, Gubbio e Isernia che si contenderanno un trofeo ma è una gara simbolica e l'occasione per rilanciare un prodotto di eccellenza che deve valorizzare il territorio sempre più e favorire l'occupazione delle aree interne affinché queste non vengono abbandonate. Intervenite, vi aspettiamo in Acqualagna, 28 ottobre 12 novembre 2023.